La crescita dei contagi in Sicilia come in Sardegna e in altre località oggi fortemente interessate dalla mobilità delle persone è un dato di fatto che va anzitutto contrastato con l'unico strumento disponibile, la vaccinazione. Lo dice in una nota il presidente della regione siciliana Nello Musumeci che rivolge un appello a tutti i siciliani che non hanno ancora deciso di vaccinarsi sperando che a questo appello si uniscano tutti i soggetti istituzionali. Non è possibile che malgrado i mezzi enormi messi a disposizione, dice Musumeci si continui a fare finta di nulla, non è possibile che signori come la gran parte dei ricoverati siano soggetti non vaccinati, non è possibile continuare ad alimentare questo fatalismo a ribasso. Per il governatore siciliano è inutile leccarsi le ferite dopo se prima si continua a far finta di niente. Vaccinarsi, ha ricordato il presidente Mattarella, è un dovere civico per tutti coloro che sono nelle condizioni di poterlo fare. Mi appello, prosegue il governatore e anche ai sindaci abbiamo diffuso a ciascuno i dati relativi ai vaccinati del proprio comune. Serve uno sforzo per convincere tutti. L'obiettivo è difendere la libertà degli altri senza mettere in discussione la propria, ma se non si comprende questa esigenza collettiva vince l'egoismo e la Sicilia non se lo può permettere per la salute di tutti e per l'economia di tanti.